Una scena agghiacciante, quanto orribile, ai limiti dell'inverosimile quella che i carabinieri si sono trovati di fronte in un piccolo appartamento in piano centro Annaro, comune caratteristico tralicata da Grigento. Un trentenne con problemi psichici che era stato affidato a dei parenti, quali tutori era tenuto legato al letto con una catena alla caviglia, a sua volta assicurata da due lucchetti. In questo modo il giovane non poteva allontanarsi dal suo letto prigione. I fatti risalgono al pomeriggio di sabato quando i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Ricata hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione. All'arrivo dei militari i due tutori si sono mostrati sorpresi e hanno farfugliato giustificazioni prive di senso, mentre i carabinieri si facevano strada percorrendo una rampa di scale che conduce al piano superiore dell'abitazione. Davanti ai loro occhi trovano il letto sistemato in un atrio di un corridoio e sotto le coperte il giovane. Scostando le lenzuole ogni sospetto è stato confermato. Il giovane era legato al telaio del letto con una catena non più di un metro che gli consentiva malapena di poggiare i piedi a terra. I carabinieri si sono subito preoccupati di rassicurare lo sfortunato, dandogli attenzioni, affetto e accarezzandolo. Lui ha addirittura aiutato i militari ad aprire i lucchetti, si è alzato in piedi ed ha ringraziato i carabinieri. E' questo l'epilogo di una tristissima e bruttissima vicenda che si è conclusa con la piena conferma investigativa di quanto sospettato avvenisse all'interno di quella casa. Gli investigatori dell'arma, per confutare quanto avevano intuito, hanno fatto ricorso anche ad attività tecniche installando cimici nell'abitazione. Avuto a conferma del grave reato che si stava consumando su disposizione del pubblico ministero Gloria Andreoli, titolare dell'indagine, è stata fatta irruzione interrompendo questa barbara condotta messa in atto dai due tutori. Lo sfortunato ragazzo è stato liberato e condotto in un centro specializzato per le dovute cure e l'assistenza necessaria. Per i suoi parenti, Angelo Vinci, 53 anni, e Andreina Vella, di 52 anni, si sono invece aperte le porte del carcere di Lorenzo di Agrigento, con la gravissima accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, su cui si pronuncerà il giudice per indagini preliminari a seguito della richiesta avanzata dalla procura di Agrigento. Si è trattato di un'operazione che ha segnato molto anche gli stessi carabinieri che si sono sentiti animati da una forte energia derivante dalla rabbia e da un forte sentimento di affetto nei confronti di quel ragazzo più sfortunato. I militari infatti hanno fatto una colletta e stanno andando a trovarlo.